Nell'anticipo di campionato di Scena Rignano per i lavori alfedini e di fatto primo impegno ufficiale per la San Giovannese, date un invio nella Coppa, Mr. Firicano non cambia rispetto al 4-3-1-2 che lo ha contraddistinto la scorsa stagione. Ci sono 4-9 arrivi tra i titolari e con l'eccezione di Dodaro sono tutti schierati dalla cintola in su. Mr. Galluzzo per lo stiamare sceglie l'aggressività del 3-4-1-2 Tirelli e è colui che deve ispirare Roberti e Simone Milani, proprio quest'ultimo nel giro iniziale di Lancette e autore della conclusione rasoterra fuori dai pari difesi da Cipriani. Passano tre minuti e Roberti sfugge al fuorigioco dei centrali azzurri, diagonale stavolta nello specchio, rimedia con il piedi l'estremo di casa. Prende qualche metro il marzocco spostando l'inerzia dell'incontro più vicino a Borrelli, Nannoni è il primo a assaggiare i riflessi del giovane portiere romano che però si distende e neutralizza. Al diciottesimo arrivano anche applausi per la triangolazione avviata con stile e conclusa da Boix con Nannoni, il destro è largo. A metà frazione il punteggio si sblocca, incorna anticipando tutti a fil di Montante e Roberti sul traversone da sinistra di Pompei, fino a quel momento migliore in campo tra i 22. Cipriani si arrende, Ostia avanti 1-0. La parità si ristabilisce presto, dal recupero di Dodaro nasce infatti l'insistita percussione di Miccoli, il giocere del marzocco è chirurgico e come il collega poco prima Borrelli può solo raccogliere la sfera in fondo alla rete. La San Giovanese ci prende gusto e prima dell'intervallo completa anche il sorpasso nel tabellino in Trabellini, già miglior marcatore dell'anno scorso, imitando il proprio compagno indirizzando nel medesimo montante. Prima dell'intervallo è chiesto anche un penalty dagli azzurri per l'intervento con il braccio di Mazzei in area ospite. Si prosegue. Il Tris è calato comunque nella prima nota della ripresa. Punizione di Miccoli, schema con torre di Boix che centra per Milani che come la scorsa stagione va in gola all'esordio con un tapin da 0 metri. Ovviamente l'ostiamare concede spazi in difesa adesso nel primo sincune a Boix che cambia gioco per Poli, destro terra l'area, oltre la traversa. Quindi Bellini si trova su entrambi i fronti di attacco e nel volgere di 120 secondi viene murato in duplice circostanza da Borrelli. In controllo della gara Firicano mette forze fresche nonché verdissime, Borgogni è uno di questi ed il 2005 sfiora il poker dal limite. I Laziali però non hanno alcuna intenzione di uscire anzitempo dalla gara così Milani va a murare e Roberti sottoporta per una girata di prima intenzione destinata ad accorciare le distanze e quindi il doppio distacco regge fino al recupero quantificato in cinque minuti anche perché la magia di sinistro a girare di Boix va a sbattere sul palo con Borrelli battuto. Buona la prima per la Sangio che ora aspetta riconoscere la sede del confronto con l'Arezzo sperando di poter tornare a casa.